il treno suburbano s 40 25 4 5 4 di treno orde proveniente da barese e diretto a albate camerlata delle ore 5 04 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regio express 53 38 di treno orde proveniente da barese e diretto a porto ceresio delle ore 5 30 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma arcisate bisù scrivi giù il treno regio express 53 01 di treno orde proveniente da porto ceresio e diretto a milano porta garibaldi delle ore 5 31 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a barese gallarate busto arsizio legnano roffiera milano il treno suburbano s 50 25 5 5 4 di treno orde proveniente da barese e diretto a mendrisio delle ore 5 e 40 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma arcisate cantello gaggiolo stavio il treno suburbano s 40 25 4 04 di treno orde proveniente da albate camerlata e diretto a barese delle ore 5 e 49 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno suburbano s 50 25 5 5 5 5 di treno orde proveniente da mendrisio e diretto a barese delle ore 6 e 19 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regio express 53 00 di treno orde proveniente da milano porta garibaldi e diretto a porto ceresio delle ore 6 e 30 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma arcisate vi susche vi giù il treno regio express 53 35 di treno orde proveniente da porto ceresio e diretto a barese delle ore 21 e 31 è arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla